Prima di iniziare con il video volevo ricordarvi di passare da Moddinglandia ragazzi se volete un account moddato a bassissimo prezzo il nick ovviamente è dalla pagina facebook in descrizione quindi ragazzi detto questo vi auguro una buona visione Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video siamo sul terzo episodio di questa serie Allora iniziamo subito e oggi siamo qua for zancudo raga perché perché voglio provare a stare un po' sul jet Ok già che spawna subito perfetto allora ho chiamato l'esser per farmi togliere i poliziotti da quoll... Dai guarda che feilo iniziamo subito proprio eh si vabbè dai qualcos'altro no eh Allora raga io vi invito subito a lasciare un mi piace per supportare questa serie e niente Ah vi ricordo anche che sono grafico quindi se vi dovrebbero servire delle grafiche per i vostri canali youtube sapete a chi contattare insomma trovate tutti i link in descrizione per potermi contattare E oggi raga volevo provare a fare un episodio dedicato interamente al jet o meglio per spiegarmi meglio io che ammazzo le persone dal jet Voglio vedere se ci riesco Guarda che faccia guarda che faccia non se l'aspettava Ed eccoci tornati Sono andato un attimo off radar per non farmi individuare dalla polizia Allora siamo in 17 va bene va bene va bene Io raga vi dico subito che con il jet non ci so tanto fare ma comunque sia me la cavo quindi eccolo qua No merda ho failato Donna Vabbè ci sono andato vicino raga Liscio Ok non mi ha agganciato Meno male Allora questo qui è in cassa No merda No merda Cazzo Sono suicidato raga No cioè questo dovete spiegarmela Prende il jet e si suicida Davvero What Vabbè Noi vediamo un po' di prendere un'auto e andarcene via Dai non ci credo Ok è morto Perfetto possiamo prenderci la nostra rivincita Cazzo raga Boom Ciao bello E' stato un piacere No merda 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 La polizia madonna Guardalo Guardalo che se ne scappa Guardalo che se ne scappa Lezzo Lezzo Guardalo col testosterone No ma ha convinto eh Ti sarebbe piaciuto Oh attenzione rage quit Dublin monster L'ha capito che con noi non ci poteva L'ha capito raga Eeeh Quindi raga Ok mi scrive il pro 4 Grande cri Lo salutiamo Eccolo la Ma guarda quanto C'è ma Oh madonna la polizia Polizia No vabbè dai Ma non ci Raga ma che No vabbè Seriamente Vabbè Oh merda Merda Sì Ma ha convinto eh Oh Di nuovo E andiamo signori Andiamo Siamo sul 4 a 0 C'è ma Ma ha convinto eh Convintissimo Vara Tiè Esplodi E chi si è visto Si è visto Dai 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 che ci passi Dai che ci passi Dai che Ho ho E andiamo raga Con la mina di Proximity Comunque raga Vi ricordo sempre di lasciare un mi piace Perché è veramente importantissimo Mi aiutate veramente parecchio Se lasciate un mi piace Quindi niente Facciamo 80 like per un prossimo episodio Raga io ci conto Quindi iniziate a supportarmi E ditemi nel prossimo episodio Se volete vedere magari Una sessione Magari dove sto solamente a terra Magari un altro dove ammazzo solamente persone dalla macchina E Insomma fatemi sapere voi Tanto noi Andiamo nuovamente At Fort Zancudo At Rubarce The Jet Va bene Va bene Va bene Vediamo un po' Da Oh 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 E' andato E' andato signori E' andato Andiamo che la kill è nostra Non devo schiantarmi Prena 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 Krix Krix Sai pilotare Ok E' andato Ok E' andata Mi ha fatto Pezzo di merda Ah si Ah si Dove pensi di scappare amico Ti tengo in pugno Varalo che si rintana Varalo Abbandona la sessione Cioè Prima ammazza E poi abbandona Ovviamente Ovviamente Comunque mi diverto un casino A registrare questi episodi raga Voi ovviamente Fatemi sapere sempre la vostra Fra i commenti Ah eccolo Ah con il bus E' amico Ciao Ah 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 Mi spiace ma Mi sa che hai fatto una brutta fine amico eh E' spawnato a terra Ok andiamolo a prendere Varalo lo so che rage qui Dai Oh eccolo Guardalo 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 Dai 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 Madonna Pensi di scappare davvero così Boom Ciao bello No Come cazzo ho fatto a lisciarlo Ok Ok è responato Praticamente Eccolo là Pem Ciao amico Donna Mamma mia Il pro signori Ancora lui E' responato praticamente Qui Va bene Va bene Dove sta andando Eccolo qua Boom Ciao amico Ha 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 Headshot Signori Attenzione Eccolo là Boom E' andata E' andata Guardalo 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 Fiero Guardalo Fiero in passiva Ha 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 Vabbè ragazzi Io direi che per questo video Può essere tutto Non so quando sia uscito a lungo Non so neanche come chiamarlo Però Devo dire che mi sono veramente divertito Ha Insomma Cioè Convinto E' Convintissimo Vara Mi sono divertito A diciamo Registrare questo episodio Non so quando sia uscito a lungo Ragazzi Spero sia stato di vostro gradimento In tal caso Vi invito a lasciare un mi piace A commentare A condividere Vi ricordo anche che sono grafico Quindi se vi dovrebbero servire Se vi dovessero servire Vloghi O banner Vari vostri canali Youtube Io insomma Sono disponibile Potete contattarmi su Facebook Instagram Twitter Oppure al profilo di Facebook Dedicato appunto Alla grafica Oppure sul canale grafico Di cui troverete il link Nella descrizione Quindi niente raga Qua da Krix E' tutto Io intanto vado qua all'aeroporto Cercando di andarmi a Oh cazzo Ok Pensavo mi stavo venendo addosso Sto jet Quindi raga Qua da Krix E' tutto Io vi saluto Vi ringrazio Mi ricordo Ragazzi lasciate un mi piace Quindi raga niente Io vi saluto Vi ringrazio E niente Ci vediamo Al prossimo video Bella Ciao a you Buongiorno.